Oggi voglio farvi un riassuntone di quelle che sono tutte le regole e i canoni che si vanno a utilizzare quando si deve fotografare uno spazio, quindi che può essere un interno, può essere un'architettura. Andremo a vedere tutte queste regole e vi consiglio di seguire questo video fino alla fine perché quello che andremo a dire oggi è in gran parte valido sia che stiamo scattando con una fotocamera professionale sia che stiamo scattando anche semplicemente con un iPhone 15. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia e in particolare di fotografia di interni. Per la verità ho anche scritto un manuale a tal proposito. Vi faccio vedere la copia fisica così vedete che non imbroglio. Se vi dovesse interessare l'argomento lo trovate su Amazon. Oggi vado a farvi una sorta di riassuntone di alcune cose che magari nella versione cartacea sono più difficili da spiegare perché manca l'esempio visivo. Ci sono le spiegazioni ma sono bidimensionali e sono fatte a modi infografica. Quindi oggi andremo a vedere un po' di questi concetti. Vi andrò a raccontare quali sono gli step che seguo quando vado a fotografare un interno. Vi farò vedere un lavoro vero realizzato per un cliente vero con consigli specifici sia che stiamo utilizzando una fotocamera sia che stiamo appunto utilizzando anche solo uno smartphone. Ovviamente il mio consiglio è quello di utilizzare una fotocamera. Se non siete capaci o non ne avete voglia ma vi servono comunque le foto di interni rivolgetevi a un fotografo. È proprio come rivolgersi al meccanico. Io difficilmente apro il cofano e mi metto a trafficare con il motore. Siccome non sono capace mi affido a qualcuno che è più competente. In questo modo risparmio tempo che posso dedicare a cose che mi piacciono di più. Prima di cominciare vi ricordo se non l'avete già fatto di iscrivervi subito al canale così non vi perdete i prossimi aggiornamenti. Date una possibilità a questi contenuti e non ve ne pentirete. Primissima cosa da dire. Normalmente quando si fanno fotografie di interni ci ispiriamo un pochettino ai render di nuova concezione. Ovvero dobbiamo cercare di produrre un'immagine che sembri quanto più perfetta possibile a costo di sembrare finta. Sembrare ovviamente non essere. Quindi non è un mappazzone messo insieme con l'intelligenza artificiale. È una foto vera. Ma dobbiamo cercare di renderla così perfetta in ogni sua parte che potrebbe quasi sembrare finta. Ricordo un po' di tempo fa un altro video in cui parlavo di fotografie di interni mostrando degli esempi veri del mio lavoro. Un utente mi disse Ma perché ci fai vedere solo dei render se parli di fotografie? E questo mi inorgogli parecchio perché se le mie fotografie erano così perfette da sembrare dei render vuol dire che avevo lavorato bene. Nello specifico tenete conto che quando si scattano fotografie di interni il problema è quasi sempre la gestione della luce. Ovvero avremo delle zone molto scure come per esempio le zone d'ombra sotto ai mobili e avremo delle zone molto chiare come possono essere dei faretti come possono essere delle luci o anche semplicemente una finestra. Per il nostro occhio è facile gestire questo contrasto anche perché la nostra iride si adatta alla luce presente e quindi ci sembra di vedere tutto bene. La macchina fotografica non può fare altrettanto o meglio lo può fare ma una volta sola quindi o scattiamo per le ombre o scattiamo per le luci. Questo genera un problema perché ovviamente non possiamo presentare le nostre fotografie in questo modo. Ecco che lo smartphone viene in nostro soccorso perché ha una cosa che si chiama HDR automatico HDR automatico. Ora l'HDR che cosa significa? Significa High Dynamic Range questo significa ampia gamma dinamica. La gamma dinamica praticamente è la massima differenza che il nostro sensore può sopportare tra il bianco puro e il nero puro. Nel momento in cui noi abbiamo una ampia gamma dinamica significa che non avremo quasi mai bianco puro e nero puro ma avremo una ampissima scala di mezzi toni che vanno quindi a coprire tutta o quasi tutta la nostra immagine. Si tratta di un'immagine a basso contrasto un'immagine che è più difficile da produrre perché produrre immagini ad alto contrasto è più semplice. Ora mentre il nostro fido amico smartphone fa tutto da solo perché si basa su procedimenti fotografici già collaudati e messi in campo dai professionisti e quindi eredita questi procedimenti e li incapsula in un comparto tecnologico più sviluppato con un sensore più piccolo e con fotografie più leggere e quindi riesce a portare a casa il risultato a scatola chiusa quando noi agiamo con una macchina fotografica dobbiamo seguire tutta una serie di step. Il primo è sicuramente lavorare su tre piede e in questo caso badate bene lavorare su tre piede è la cosa migliore anche se stiamo scattando con smartphone. In particolare io oggi vi farò vedere questo tre piede che è un tre piede di small rig che mi è stato mandato e che ho già recensito in un altro video che vi lascio in card se volete vedere la recensione completa. Come potete vedere è piccolo questo praticamente questo e la macchina fotografica sono tutto il mio setup quindi per fare fotografie di interni oggi sono incredibilmente leggero sono più leggero di prima e quindi sono molto grato a small rig per avermi mandato questo delizioso tre piede che adesso utilizzo nei miei lavori. La scelta della strumentazione è essenziale ovviamente perché quando si fanno fotografie di interni vogliamo anche essere un po' rapidi non vogliamo passare la nostra vita a fare questo lavoro ok è bello e divertente e rilassante però facciamolo e poi torniamocene a casa. Per questo motivo abbiamo a disposizione un tre piede che è facile da montare come potete vedere con una serie di rapidi movimenti collaudati abbiamo aperto il nostro tre piede facendo pochissima fatica con movimenti altrettanto rapidi possiamo montare la nostra piastra sul fondo della nostra fotocamera che poi andiamo a innestare e con due rapidissimi e facilissimi giri della mano è tutto pronto per scattare tempo medio per impostare il setup 30 secondi fantastico andiamo a incominciare ora quando entriamo in uno spazio che dobbiamo fotografare è bene familiarizzare con gli oggetti presenti al volo non dobbiamo stare lì mezz'ora diamo una rapida occhiata e rendiamoci conto con cosa abbiamo a che fare in questa stanza per esempio avevamo due scrivanie una libreria e una finestra queste cose possono sembrare banali le vediamo tutti i giorni siamo a sue fatti a vedere cose del genere ma in questo caso dobbiamo guardarle con occhi un po' diversi perché dobbiamo stabilire qual è il modo migliore di fotografare questa scena e badate bene fare fotografie di interni non significa entrare in una stanza pum 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 e uscire fare fotografie di interni significa innanzitutto prendersi il tempo per valutare se serve un hdr se è meglio farle con lo smartphone se è meglio farle con la fotocamera che ottica bisogna utilizzare nel mio caso specifico io sto utilizzando il 14 35 mm di canon con cui mi sto trovando bene dai mi ho parlato male in video precedenti perché secondo me ha dei difetti non ultimo un prezzo che non esito a definire un po' eccessivo però devo dire che comunque funziona il lavoro te lo porta a casa e anche molto bene quindi a quel punto funziona va bene ormai me lo sono comprato me lo tengo va bene così sono anche soddisfatto si poteva fare di più ma va anche bene così nessuno è perfetto ora tornando alla nostra foto di interni quello su cui ci dobbiamo focalizzare una volta che abbiamo il nostro treppiede e una volta che abbiamo capito come impostare la nostra esposizione quindi bracketing quanti stop impostare eccetera eccetera è la composizione la composizione è cruciale in una fotografia di interni perché non sarà mai una foto espressiva non c'è una bella ragazza o una personalità incredibile spumeggiante che riesce a farci fermare su quella foto quindi la composizione deve essere assolutamente azzeccata ora noi dobbiamo giocare con gli elementi a nostra disposizione in maniera tale da cercare di rappresentare correttamente nel modo migliore possibile lo spazio che abbiamo a disposizione una regola molto importante è quella delle linee verticali vogliamo evitare le linee cadenti per cui cercheremo di scattare la nostra fotografia in maniera tale che le linee verticali siano parallele ai bordi del nostro frame per fare questo significa semplicemente mettersi in bolla sul nostro treppiede quindi ci mettiamo in bolla e il resto viene un po' da sé anche se i muri non sono sempre dritti quindi magari può essere necessario aggiustare manualmente in loco per mantenere le verticali dritte dobbiamo ovviamente tenere sempre sotto controllo la nostra composizione non andremo a scattare dall'alto in questo modo perché così vedremo delle linee convergenti che non ci piacciono esattamente allo stesso modo non andremo a scattare una fotografia dal basso perché di nuovo avremo delle linee che non ci piacciono per niente risultano storte assolutamente sgradevoli una volta che abbiamo trovato l'inquadratura corretta e quindi abbiamo le nostre linee verticali perfettamente dritte andremo a inquadrare correttamente gli elementi presenti nella stanza in questo caso i tavoli e andremo a cercare di non segare le gambe ai tavoli per esempio e questo lo possiamo fare regolando l'altezza della nostra fotocamera una volta che abbiamo la composizione corretta e siamo in bolla per le verticali possiamo muovere in alto e in basso il nostro punto di ripresa senza che questo alteri la composizione per andare a inquadrare correttamente le parti della composizione che vogliamo esaltare maggiormente quindi se c'è un tavolo in mezzo alla stanza ci abbassiamo per non tagliare le gambe al tavolo se c'è un mobile e una libreria molto alta in fondo alla stanza alziamo la ripresa per non tagliare la parte superiore di questo mobile di questa libreria a seconda del caso andiamo a giustificare la nostra altezza di ripresa è assolutamente cruciale ragionare bene su come si vuole comporre la scena perché in una stanza possono esserci diversi mobili e noi possiamo ragionare sul fatto che vogliamo includere tutti i mobili possibili e immaginabili per dare l'idea dello spazio più vasto possibile ma questo lo potremo fare solamente se abbiamo un grandangolo abbastanza ampio che ci permette di farlo se non abbiamo un grandangolo abbastanza ampio e molti di voi nei commenti mi dicono ma si può fare fotografie di interni con un 28 mm su APS-C ragazzi si può fare il dottore non ha vietato di usare il 28 mm su APS-C per fare foto di interni però sicuramente dovete tornare dal dottore dopo quando avete finito perché è un lavoraccio quando si scattano fotografie di interni l'ideale è avere almeno un 17 mm col 24 si fa una gran fatica col 24 su full frame figuriamoci su APS-C io uso un 14 tenete a mente questo parametro io uso un 14 e uso quasi solo il 14 o il 16 quando faccio foto di interni quindi se avete un 28 secondo me non va bene se avete un 35 secondo me non va bene ecco tenete conto che su full frame dovreste partire almeno da 17 mm su APS-C dovreste partire diciamo da almeno 14 mm sarebbe ancora meglio 10 mm su APS-C quando si scattano fotografie di interno infatti è molto frequente trovarsi a lavorare in degli spazi angusti possono esserci per esempio delle stanze che sono lunghe e strette e in questo caso noi non possiamo scattare come vogliamo dobbiamo trovare la composizione migliore con un angolo di campo ristretto ci penalizzerà tantissimo quindi più grand'angolo lo abbiamo e meglio è poi nel momento in cui usiamo un grand'angolo zoom come nel mio caso abbiamo il 14 ma dobbiamo scattare a 20 benissimo zoomatina e siamo a 20 quindi in questo caso io ho la combinazione più forte possibile perché dal 14 al 35 posso fare quello che voglio un'altra cosa molto importante per quanto riguarda la composizione è il punto di ripresa ovvero siamo in una stanza diamo per assodato che questa stanza sia quadrata rettangolare o comunque con una forma abbastanza regolare noi possiamo scattarla in maniera simmetrica quindi posizionandoci a metà di una delle pareti proprio nel punto centrale di una delle pareti e scattare rivolti verso la parete opposta come punto di fuga al centro della parete opposta questa è una cosa che può funzionare se l'architettura ci agevola se abbiamo un'architettura progettata simmetricamente come può essere un arco un androne o una navata di una chiesa questo può essere un tipo di composizione che dà i suoi frutti nel 90% dei casi però staremo fotografando un immobile passatemi il termine normale quindi una casa un appartamento un ufficio in questi casi a mio parere la composizione dall'angolo è sempre premiante quindi non andremo più a posizionarci in mezzo fate finta che questo sia il frame che stiamo guardando non andremo più a posizionarci in mezzo scattando per il lato opposto ma andremo a posizionarci in un angolo scattando per l'angolo opposto in un angolo scattando per l'angolo opposto questa è una composizione più forte a mio parere perché è più dinamica ci permette di decentrare gli elementi quindi avremo una veduta innanzitutto più ampia perché ci permetterà di vedere due angoli due muri invece che uno solo se noi stiamo scattando simmetricamente vediamo quasi soltanto la parete di fronte a noi con un pezzettino di angolo invece se ci mettiamo angolati vediamo praticamente tutta la stanza dobbiamo scegliere bene qual è l'angolo che ci interessa di più vi faccio vedere un paio di esempi vedete questa angolazione di questa stanza a mio parere non è il massimo perché anche se riusciamo a vedere bene la stanza non rendiamo a pieno la sua essenza non mi sentirei soddisfatto a presentare questa angolazione al mio cliente così come nemmeno la successiva queste sono due angolazioni che funzionerebbero anche ma io vi dico che non le ho nemmeno scattate la terza angolazione sì poteva anche convincermi ma in realtà io ho optato per la quarta ho optato per la quarta e lo vedete da solo il perché perché è quella più rappresentativa è quella che mi permette di includere un numero maggiore di elementi nel modo migliore oltretutto e che mi permette di rappresentare la stanza nella sua luce migliore in assoluto ora capita spesso e volentieri che io scatti quattro angoli quando faccio fotografie ad interni di solito ne faccio tre a volte ne faccio quattro se si riesce ci sono casi come questo in cui a mio parere è un angolo solo quello buono perché gli altri sono assolutamente penalizzati queste sono tutte decisioni che dobbiamo prendere sul momento perché probabilmente non conosceremo l'immobile che andiamo a fotografare quindi dobbiamo deciderlo sul momento e per questo motivo è bene allenarsi allenarsi quindi sia a mantenere le linee verticali sempre perfettamente dritte allenarsi a sviluppare un occhio per la luce capire già al volo se dobbiamo utilizzare il bracketing oppure no se possiamo utilizzare lo smartphone oppure se serve una macchina fotografica questo dipende anche dal formato che ci serve e dalla qualità finale che ci serve perché lo smartphone nella maggior parte dei casi va bene per queste cose ovviamente se chiamiamo un fotografo professionista e ci facciamo fare le foto con tutti i sacri crismi verranno un pochettino meglio quindi la domanda alla fine della giornata è ma queste foto sono a zero budget perché non me ne frega niente oppure devo vendere un immobile affittare un immobile proiettare la mia immagine della mia azienda su un pubblico in questi ultimi tre casi francamente credo che investire due spicci per avere delle fotografie migliori di quelle che potrebbe fare il cuginetto con il telefonino sarebbe assolutamente appropriato ricordiamoci anche che il tempo è anch'esso un fattore è molto importante tenere in conto anche questa variabile realizzare fotografie di interni con una macchina fotografica professionale richiede molto più tempo di quello necessario quando si scatta con un iphone 15 per esempio perché l'iphone 15 scatta in automatico e ci consegna un risultato già utilizzabile e se avete seguito tutti i consigli di questo video verrà anche discretamente bene viceversa se scattiamo con la macchina fotografica avremo delle immagini che dovranno per forza essere processate dopo a computer anche per questo motivo reputo che sia essenziale avvalersi di strumentazione veloce ed affidabile ed ecco che di nuovo questo piccolo amico mi torna particolarmente utile perché oltre a essere molto facile e veloce da montare funziona anche alla stessa maniera quando lo devi chiudere quindi è molto rapido da sigillare mettere via ed è leggero da trasportare e possiamo navigare serenamente verso il prossimo lavoro ora se in questo video avete trovato suggerimenti utili io vi invito primo a farmelo sapere in un commento qui sotto secondo a cliccare il bottone iscriviti proprio qua sotto terzo a lasciare un like a questo video perché si sono dei cambiamenti ultimamente sull'algoritmo e non sta più funzionando come una volta per cui mi serve un po' di aiuto a voi non costa nulla se non un piccolo sforzo dei pollici ma al canale date veramente una grossa mano signori io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video un po' di aiuto un po' di aiuto un po' di aiuto l'aiuto un po' di aiuto un po' di aiuto che non va prev studio Grazie a tutti